La 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 la... Oh, Sam ha di nuovo qualcosa di strano! Sue, salvami! Ma che è successo? Queste patatine sono buonissime, ma è un sacco difficile tirarle fuori, quindi ho perso l'equilibrio e sono caduto nella latina, uffa! Ah, penso di sapere che cosa possiamo fare! Creeremo un distributore di patatine Pringles! È davvero geniale! Cominciamo! Sam, porta il cartone! Consegna a domicilio per lei! Con cosa iniziamo? Per prima cosa salutiamo i nostri spettatori! Ops, sì, ciao ragazzi! Certo che ti scordi sempre! Ciao a tutti! No, è che ero solo distratto! A proposito, per non perdere altri video, premete la campana delle notifiche! Mentre parlavi della campana ho finito di tagliare il cartone! A proposito, avremo bisogno di tre pezzi come questi! E iniziamo incollandoli! Se tu stai incollando non ti darò fastidio, io taglierò gli altri pezzi! Sì, ma fai attenzione col taglierino! Ricorda, è molto affilato! Ragazzi, anche voi, eh! Fatevi aiutare! Perché mi hai preso? Io sono l'attenzione in persona! Come si chiama? Forse signor preciso? Subito dopo signor vanitoso, oppure lo slime più veloce del mondo? Che vorresti dire? Beh, adesso taglierò tutto e vedremo chi è più bravo! Oh Sam, non arrabbiarti con me, è tutto vero! Forse mi piace esagerare un po', ma non significa che io sia vanitoso! Eh sì, sono uno piuttosto preciso! Sammy, dai che sto soltanto giocando! Sei così permaloso quando si tratta delle critiche! Vedi? In realtà devi solo ammettere che io sono lo slime migliore del mondo! Dai su, forse solo un pochino! Che cosa vuoi dire con un pochino? Per i cilindri userò del cartone flessibile! Sam, hai finito? Se non mi avessi distratto avrei già finito! Sam, per favore, porta gli spiedini di legno! Certo! Tre pezzi! Non finirò mai con il cartone! Ecco i tuoi spiedini, cerca di non distrarmi per i prossimi cinque minuti! Sammy, come potrei fare senza di te se il mio aiutante numero uno... Per davvero? Ovviamente! Non sono sicura di riuscirci senza di te! Beh, lo sapevo! In realtà qualche volta ci sono riuscita! Ah sì? E allora fallo da sola! Sam, perdonami! Stavo solo riflettendo ad alta voce! Bene, dopo tutto stiamo solo realizzando il distributore per me! Ok, vado a finire! Uff, meno male! Ho evitato una polemica! Ho lasciato correre! E meno male! Dopo dobbiamo creare le maniglie per il distributore facendo dei cerchi con il cartone come questo! Sam, sei pronto? Sì! Sì, gentile, aggiungi dei cilindri ai supporti! Io mi occuperò delle maniglie! Va bene, tra un attimo! Tengo ferma la costruzione e metterò i cerchi proprio qui! E taglio via l'eccesso! Fatto! Guarda, ho creato due supporti mentre tu ne hai creato soltanto uno! Adesso mi dici che è il maestro! Oh, Sam, sei tu, ovviamente! Ecco, va meglio! Allora, Sammy, cominciamo a montare il corpo centrale del distributore! È quasi ora! A proposito, Sam, qual è il gusto di patatine che preferisci? Fammi pensare, posso dirne solo uno? In realtà no, il distributore è pensato per contenere tre lattine diverse! Ok, panna, acida, paprika e sottaceti! Sottaceti? Ah sì, sottaceti leggermente salati! Che buono! Sam, sapete che esiste il gusto con le gocce di cioccolato? Cioccolato? Sì, patatine con il cioccolato, ma devi mangiarle molto in fretta perché si sciolgono in bocca! Oh, non le conoscevo! Ora devo provarle! Allora dobbiamo proprio andare a fare la spesa e comprarle! Oh, sono sicuro che saranno incredibili! Ragazzi, a voi quale gusto piace? Commentate qui sotto! Siu, e a te quale piace? Non lo so, mi piacciono tutti! Ma forse preferisco quelle al barbecue! Allora metteremo nel distributore sicuramente il barbecue! Sì, ho anche l'etichetta! E puoi decorare le altre maniglie con i gusti che desideri! Oh, ho preparato anch'io le etichette! Ah, i sottaceti! Beh, certo non potevano mancare! Che posso farci? Adoro questo gusto! Attaccheremo le frecce in modo da capire in che direzione ruotare e abbiamo quasi finito! Finalmente ho così tanta fame! Forse dovremmo pranzare e lasciare le patatine per uno spuntino? No, voglio mangiare solo le patatine! Il pranzo lo facciamo dopo! Dai, dai, dai! Allora porta qui le lattine di patatine e testiamo il distributore! Spero che restarci incastrato sia soltanto un brutto sogno! Oh, Sam, eri così buffo! Mecca sarà successo solo a me! Magari è successo a te mentre cercavi qualcosa da mangiare, no? Eh sì, ma è successo una sola volta però! Quando la mano mi è rimasta bloccata nella borsa mentre cercavo le gomme! Allora porta a me! E' fantastico, Siu! Nessuno è rimasto incastrato e non ci sono briciole? Oh sì, mi piace che sia tutto ordinato e al suo posto Questo perché sei una manieca del pulito E alle volte esagera proprio, Sam pulisci qui, Sam non dimenticare di raccogliere la spazzatura, bla Sam, ti sento, eh? A meno che tu non vogli essere Sammy il maialino, devi tenere in ordine Perché maialino? Sono uno slime molto pulito A volte non ho tempo per raccogliere la spazzatura, ma perché sono troppo impegnato Vuoi dire che sei troppo impegnato a mangiare queste patatine? Esattamente, salutiamo i nostri spettatori e mangiamo Ok, ciao ragazzi, iscrivetevi al nostro canale E dateci un pollice in su e premete la campana Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ciao ciao ciao!